Un virus trasportato da alcune meteoriti è rimasto sepolto nelle vaste distese dell'Antartide all'insaputa dell'uomo. Ma quando le meteoriti vennero scoperte quasi 200 anni fa, l'intero genere umano ha conosciuto la più devastante epidemia della sua storia che rischia ora di portarlo verso l'estinzione. Durante questi lunghi anni milioni di uomini e donne intere discendenze e popoli hanno subito mutazioni, sono morti e infine sono stati bruciati in roghi e fosse comuni. L'unica speranza di sopravvivenza per l'umanità dipende ora da un piccolo gruppo di persone geneticamente rafforzate, il cui sistema immunitario è stato dotato degli anticorpi necessari per resistere agli effetti letali di questo batterio extraterrestre. Ma devono agire in fretta o sarà troppo tardi. Il contagio si diffonde, non riusciamo a contenerlo. La vostra nave è la nostra unica speranza. Il rompighiaccio Nathaniel Palmer venne a contatto con le meteoriti da qualche parte in questa zona. Il Nathaniel Palmer fu trovato alla deriva. L'equipaggio fu infettato e morirono tutti. Prima che qualcuno realizzasse la gravità dell'accaduto, il virus si era propagato in tutti i continenti. Sotto il suo comando il Parsifal ritornerà indietro nel tempo di 200 anni e ripercorrerà gli spostamenti del rompighiaccio che la condurranno al luogo di ritrovamento delle meteoriti. Cambi il corso del tempo, sradichi questo flagello.